Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! E senti Giada, mi spieghi una cosa? Che cosa? Ma come che cosa? Guarda, siamo praticamente al buio, siamo senza luce, io non ci vedo niente, sicuramente è colpa tua perché non hai pagato la bolletta. No, 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 io le bollette le pago sempre. Oggi vedi che siamo un pochino al buio perché è una giornata molto importante, è il 6 marzo ed è la giornata mi illumino di meno. La giornata mi illumino di meno? Sì, si festeggia il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili e anche il Gormiti Show vuole dare il suo contributo. Lasciamo perdere. E lo sai che anche il 21 marzo è una giornata molto importante, sai cosa succede? Sì, praticamente in piazza danno le lasagne e si mangia tutto il giorno. No, 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 tu pensi sempre a mangiare. È la giornata mondiale delle pureste di boschi. Ah, quindi... Hai visto che bello? Sì, ma quindi tu mi stai dicendo che marzo è un mese di grande iniziativa a favore della natura, come lo sono i Gormiti e il loro lord. Esatto. Chiunque attacchi la natura finisce per attaccare se stesso. Johnny, vedi che anche il mio amato lord titano è un difensore della natura? Eh sì. Oh, Giada, finalmente il Gormiti Magazine che tra l'altro è uscito anche da poco. Guarda, si può trovare nuclear silver dentro. Cioè tu mi stai dicendo che dentro questa bustina trovo nuclear silver. Apro io. Sì, va bene, apri, aprina. Allora, vediamo un po'. Oh! Ah, ci sei cascata. Era impossibile che fosse guarda. Eccolo! Ma è bellissimo! Wow, ma sembra fatto di acciaio. Ma... Bellissimo. E poi guarda, possiamo sempre trovare dentro al Mellin... Sfogliamo, sfogliamo. I fumetti inediti. Fumetti inediti. Con storie mai uscite. È vero. Poi ci sono tantissimi disegni da colorare. Oh, dammi un po' di colori che inizio, dai. Eh, no, 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 dopo. No, 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 dopo. Finiamo di guardarlo. Poi, aspetta... Oh, guarda qui, ci siamo noi! Ci siamo noi! Eccoci! E qua vi raccontiamo un po' il nostro percorso, chi siamo, eccetera. Leggete l'intervista. E poi ci sono tantissimi giochi da fare. Questa è una pagina bellissima perché si può disegnare. Però fa vedere. Eh, sicuramente tu lo faresti benissimo. Eh sì, perché io amo disegnare. Poi... E poi ci sono i laboratori! Gli odori, i laboratori! Anche io! Sì, lasciamo perdere. Sono un po' un disastro. Ma Gianni, Gianni, mi è venuta in mente una cosa. Cosa? Vi devo vedere il giornalino dopo, eh? No. Sì, perché adesso dobbiamo raccontare una storia! Una storia, Giada, che c'ho il labirinto da fare! No, no, aspetta, ci ha mandato Pietro, di sette anni, di Ancona, una bellissima storia da raccontare. Va bene, andiamo a raccontarla. Wow, Giada, guarda! Abbiamo... Ma c'è anche il fumo! E sì, sembrano gli effetti speciali del cinema. E sì, evidentemente il regno del fuoco è così incandescente che ha provocato tutto questo. Dai, iniziamo con la storia. Sì, sì, la storia inizia così. Allora, ma dove sono tutti? Icor, Trek, Aaron, dove sono andati? È da due ore che non ci sono più. È vero, sono andati a fare la spesa? Eh, non lo so, non lo so. Secondo me si stanno mangiando tutti gli sluggi, loro. L'importante è proteggere la torre, vero, Nuclear? Sì, noi restiamo qui. Mentre questi guardiani Mecha sono impegnati a cercare il cibo, a far la spesa, io ne approfitto per rubare l'energia Mecha e trasformare questa torre in una torre malvagia. Ehi, amici, guardate chi c'è! Oh no! C'è un Megacratus! Lo dobbiamo fare in fretta! Dobbiamo sconfiggerlo! È vero, è vero, è là sopra! Nuclear, cosa vuoi fare? Sconfiggo! Non ce la fare mai! Guarda dove si è finito! Dobbiamo andare ad aiutarlo! No, io prenderò ancora nell'energia. Amici, amici, andiamo lo so e sconfiggiamo! Andiamo tutti assieme! Eh, ma non è valido, siete quattro contro uno! Ti sconfiggiamo! Anzi, tre contro uno perché il nucleo è andato. Siamo in due! No, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene! Per questa volta mi avete sconfitto, ma io tornerò molto presto. Ce l'abbiamo fatta! Insieme riusciamo sempre a sconfiggere tutti. Nuclear, vieni qua! Dai, poverino, fai venire, fai venire. Adesso arrivo, adesso arrivo. Eccoci qua! E ce l'abbiamo fatta! Siamo stati bravissimi! Festeggiamo! Beh, Giada, questa è stata veramente una grandissima storia. Sì, voi continuate a mandarci le vostre storie a gormitishow.gormiti.com e noi le racconteremo. È vero. Oh, Giada, siamo arrivati alla parete Mecca! Sì, è arrivato il momento di mostrare le foto che ci avete mandato. Eh sì! Oggi mostriamo la foto di Matteo. Fa vedere! Guarda quante cose che ha! Hai tantissimi... Al bracciale degli elementi, la torre... Hai tutte le riviste, mi raccomando, prenditi anche quella per l'uscita da qualche giorno. E io so che insieme alla foto abbiamo anche una dedica. Leggi, leggi, io intanto attacco la foto alla torre Mecca. Ciao Gianni e Giada, sono un vostro grandissimo fan. Ci siamo incontrati a G come giocare... È vero! È vero, mi ricordo! Anche io mi ricordo, è vero! Dove mi sono divertito tanto. Mi piacerebbe partecipare ad una puntata del Gormiti Show, manca poco al carnevale e mi vestirò da Lord Electrion. Allora aspettiamo la tua foto. Aspettiamo la foto, mi raccomando, vestito da Lord Electrion. Vi presento la mia personale collezione dei gormiti. Sei super attrezzato! Sei super gormitico! Gianni, però adesso è arrivato il momento di salutare i nostri amici perché la puntata sta finendo. È vero, sta finendo, però prima di salutare i nostri amici e dare appuntamento alla prossima puntata, ci tenevo a fare gli auguri a tutte le donne perché dopo domani è la festa delle donne e volevo iniziare da te, Giada. Auguri! Grazie! Auguri a tutte le donne e mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi perché noi mostriamo sempre un sacco di cose, tantissime sorprese, mi raccomando, mi raccomando. Un saluto da Gianni e Zada. Ciao! 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 Grazie a tutti.